solita spark ma in colorazione diversa non è proprio così questa è una nuova versione della scott spark si chiama super trail travel di 130 mm con forcella paecca all'anteriore travel di 100 e 120 mm al posteriore una versione un po pimpata per il divertimento della nuova spark che verrà presentata a breve la vedremo entro fine 2022 inizio 2023 un bel mezzo che merita attenzione continuate a seguirci perché sicuramente ci arriverà e la testeremo ciao a tutti da italian bike festival